per evitare la polizia se questo vuole lo portarlo a 0,5 ora possiamo provare a fare 0,5 per vedere quanto sta facendo allora portiamo a 1 allora proviamo 0,5 l'indicazione vediamo cosa fa il testimetro 5 l'indicazione 1,0,3 proviamo questo faccio anche il 0,25 per capire questo per fare il colo da dietro 2 portai con portai con portai con ma tutto su internet si lo vengono io vengo parico tutto il moto si si addirittura della striscia di casa la striscia di casa 2 portai con 2 portai con 2 portai con 2 portai con portai con la striscia di casa